Prima partita della quattordicesima giornata di campionato terminata 3 a 0 in favore della Dea, il Brescia che non riesce a vincere, specie se una Dea che sta tornando perché era se non sbaglio da un mese, da almeno un mese senza vincere e torna la vittoria contro l'ultima in classifica. È vero che era una versione abbastanza facile da affrontare, però comunque la Dea non vinceva da un mese, quindi non era facile. Considerando che la Dea viene da un 2 a 0 in Champions League, mi aspettavo che la Dea vincesse anche con 3 gol di scarto. La Dea comunque sta tornando e sta tornando nel momento più opportuno perché l'Atalanta poi tra due settimane avrà il match importantissimo decisivo in Champions League in trasferta contro lo Shakhtar Donetsk che potrebbe consentire alla Dea di andare a giocarsi gli ottavi di finale, impensabile all'inizio dopo le prime uscite dell'Atalanta in Champions League. Tornando a parlare di campionato però, l'Atalanta che domina tutta la partita per 90 minuti, il Brescia ha avuto qualche occasione, l'occasione più ghiotta sicuramente è stata quella di Mario Balotelli. Tiro veramente potentissimo che si è stampato sulla traversa, qua Balotelli poteva benissimo piazzarla invece di puntare alla potenza e a spaccare la traversa. Balotelli non viene da un buon momento come il Brescia che nemmeno con Fabio Grosso riesce a trovare quella serenità che potrebbe consentire al Brescia di fare qualche risultato. È ovvio che contro l'Atalanta non ti aspetti di fare chissà quale risultato, ma ripeto contro le altre squadre il Brescia con una mentalità diversa potrebbe fare benissimo il risultato. Il Brescia ultimo che rimane tale. La Dea che può sognare un posto in Champions League, bisogna aspettare ovviamente le partite della Lazio, del Cagliari e della Roma, specialmente della Lazio e del Cagliari che in questo momento occupano la terza e la quarta posizione rispettivamente. Pasalic segna una doppietta, Pasalic è un giocatore che ce l'ha al gol, ce l'ha al fiuto del gol, è un centrocampista che si inserisce spesso in aria e poi il 3-0 al novantesimo e oltre lo segna Ilicic su una palla persa di un giocatore del Brescia, adesso non ricordo esattamente chi fosse questo giocatore e segna il gol definitivo del 3-0 che chiude definitivamente i giochi, ma i giochi erano già chiusi sul 2-0. Comunque l'Atalanta merita nettamente questi tre punti perché ha giocato perfettamente, il Brescia non ha fatto quasi nulla, ripeto parte quell'occasione di Balotelli e qualche occasionina, ma neanche. L'Atalanta vince 3-0, può sperare un passo falso delle altre pretendenti per il quarto posto che vale a dire la Coppa dei Campioni, la Champions League. L'Atalanta piano piano sta facendo sempre più partite buone e questa è una cosa positiva, ripeto, perché l'Atalanta si deve preparare molto molto bene in vista di una partita molto importante che potrebbe essere la partita più importante dell'Atalanta in questa stagione, la partita decisiva, stessa giornata di Champions League della fase di gironi contro lo Shakhtar Donetsk che all'andata aveva abbattuto e aveva beffato, questo è il termine più adatto, la Dea a San Siro per 2-1 all'ultimo minuto.